forte e spingi, sfruttissimo veloce è luce ho oh ho oh 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 ma c'è beh beh non è che hai tirato l'aria no? no l'aria è normale vediamo come si accende ora non fa scendere ma come la candela ma come la candela se va qua nessuna candela va su stommo